Musica Amici sportivi in visione e all'ascolto buon pomeriggio, siamo collegati con il Vincenzo Monaldi Porto Recanati dove tra pochi stanti avrà inizio la dodicesima giornata del giro d'andata del campionato di promozione Girone B tra il Porto Recanati e il Potenza Picena posta partita iniziata Porto Recanati che con il pallone tra i piedi, pallone che viene lanciato da Monaco sulla sinistra ma nell'uno, nel Gasparini né tantomeno Mancini che oggi viene schierato sulla faccia destra sono riusciti a appunto prendere il pallone quindi c'è il fallo a trale già battuto di palla Mancini, Mancini che si è troppo decentrato, era in una buona posizione poi commette fallo avrebbe dovuto passare magari più all'indietro, sbagliato da parte di Vecchione c'è la ripartenza da parte del Porto Recanati viene fermato in fallo laterale a Scani, era andato via bene adesso andiamo errati a lancio di Bergamini a cercare ora c'è sicuramente e c'è il gol, il vantaggio del Potenza Picena esattamente al trentanovesimo ha realizzato Iori che ha sfruttato una torre da parte del proprio compagno se non diamo errato Vecchione e ha messo alle spalle di Piangerelli esattamente al trentanovesimo al trentanovesimo passa in vantaggio il Potenza Picena con Iori il gol ad orche se non diamo errati va a sette reti di in questa stagione Camilletti che effetto al lancio c'è il pallone che danza pericolosamente in aria e l'uscita poco precisa da parte di Natali pallone che poi è stato allontanato dai difensori del Potenza Picena un minuto di recupero eccolo la cartina di un minuto di recupero Tiam l'apertura per anzi il pallone per Iaglia il colpo di testa e c'è l'ostacolo sicuramente da parte di Pantone Pantone che effettua un lancio in avanti ma non riesce a trovare un proprio compagno riprendiamo la linea del Vincenzo Monaldi di Porto Recanati dove ci appiestriamo ad assistere al secondo tempo tra della partita di calcio del campionato di promozione tra il Porto Recanati e il Potenza Picena la prima frazione di gioco si è conclusa con il vantaggio dei giallorossi Potentini quest'oggi in maglia nera con un gol di Iori al trentanovesimo minuto di gioco dopo un primo tempo abbastanza tranquillo dove in pratica non ci sono stati dei tini nello specchio della porta diversi travisioni dall'una dall'altra parte Cana con Foglia viene fermato fallosamente e Mercuri sul pallone e c'è il pallone che termina dentro dopo un batti e ribatti esattamente dopo due minuti non siamo riusciti a vedere l'autore del gol vediamo che è è il numero è Vecchioni si sembra sì è il no anzi no sempre Iori c'è una protesta c'è una c'è una protesta da parte dei giocatori di Porto Recanati quindi Iori realizza la sua doppietta quindi al secondo al secondo della ripresa che non può nemmeno commettere fallo tanto perché è munito e c'è e ora probabilmente ci sarà un'espulsione o un provvedimento e Malacca e Mercuri che viene espulso che viene espulso esattamente al tredicesimo ricordiamo che Mercuri e Malacca erano due compagni stati due compagni di squadra proprio qui a Porto Recanati anzi no chiediamo scusa non è Mercuri è Agostinelli chiediamo scusa chiediamo scusa si tratta di Agostinelli probabilmente Camilletti un altro rosso ora il rosso al fronte di Camilletti probabilmente avrà effettuato qualche protesta non sappiamo di che comunque anche Camilletti finisce negli spogliatoi il tentativo di tiro da parte di Pantone ancora una volta ha ribattuto e c'è il fallo commesso da Tiam il tentativo di tiro da parte di Gasparini che non ha alcun problema Natali grazie 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 a tutti.